Zero, come finalmente gol subiti in questa partita. Quarta partita, quarta vittoria, ma a cosa più importante arriva il primo clean sheet stagionale. Clean sheet già sputtanato con l'Arsenal per quel colpo di culo di Torreira, Coltotempton per il suicidio di Adrian. Oggi finalmente, o meglio ieri, finalmente arriva il clean sheet che tutti ci aspettavamo. Ma avendoci la difesa che abbiamo, l'anno scorso miglior difesa del campionato, di gran lunga, con miglior difensore al mondo, fare tre partite subendo almeno un gol, in tutte le tre partite abbiamo subito un gol, iniziava a essere fastidioso. Arriva il primo clean sheet, arriva la quarta vittoria di fila, meritatissima, arriva dopo aver giocato benissimo, in un campo abbastanza ostico, lo scorso anno non so se ci vincemmo le. Mi sa che ci pareggiamo. Il City, se non mi sbaglio, ci ha perso lo scorso anno. Vittoria molto molto importante, anche perché è una progressione, siete risultati, arriva il primo clean sheet, continuiamo a giocare bene, mentre le prime uscite, specialmente con Coltotempton, non avevamo giocato bene. Insomma, stiamo ingranando e stiamo tornando in Liverpool, la squadra più forte del mondo, insomma. Stiamo tornando ai nostri livelli soliti che ci hanno permesso di vincere Champions League e Supercoppa Europea. Questo deve essere Dio che è incazzato perché il Liverpool le sta vincendo tutte. e a Baia, infatti. Di vittoria importante, appunto, arriva senza nessun particolare patema, un po' i primi 15-20 minuti, leggermente sotto gli avversari, cioè, leggermente sotto gli standard, con gli avversari che piressavano. Poi siamo sbloccati, primo gol e peraltro a cula addirittura, pensate un po', abbiamo addirittura fatto anche un gol a cula, col cross di Arnold che lo sbaglia palesimente, va verso la porta e si insacca, si insacca al sette. Poi, secondo e terzo gol, pura Accademia Liverpool. Partita in ghiaccio già sul 2-0, già a fine primo tempo, e niente. Due parole sul siparietto fra quell'imbecille di Mané, e con la testa di cazzo di Salah, che nel teatrino generale, visto che ormai è tutta una passerella e vogliono far gol tutti, Salah pensa bene, specialmente già nel primo tempo a Firmino, non gli aveva dato una palla che era solo in area, però lì ci poteva anche stare. Nel secondo tempo, alla fine, poco prima che Mané uscisse, Salah con Mané libero a un metro, che avrebbe certamente fatto gol, si inventa un tiro del cazzo inutile, insomma, butta via il pallone, pur di provare a far gol lui stesso, e fa incazzare Mané. Fin lì, giustamente. Poi Mané riesce brillantemente a finire dalla parte del torto, quando una volta levato, va in panchina, insomma, l'avete visto tutti, e si incazza, addirittura tocca a Milner, è un altro tenerlo in panchina, perché sarà incazzato con Salah. Ecco, anche se vinci 3-0, anche se Mané e Firmino hanno già fatto gol, anche se vuoi far gol te. Perché quelle sono cazzate, se inizi a fare le sfide in casa, tra giocatore e giocatore, è il modo migliore per non vincere un cazzo. Lo scorso anno siamo stati il miglior al mondo, perché avevamo un'intesa di spogliatoio, in primis, perfetta. E poi, ovviamente, lato Mané, lato Mané, non fai quelle puttanate da mongoloide mentale davanti alle telecamere quando arrivi in panchina. Queste sono cose che chiarisci nello spogliatoio, cosa che poi è successo. Ho letto un'intervista di Klopp prima, che ha detto che si sono chiariti nello spogliatoio. Sicuramente Klopp avrà preso a calci nel culo tutti e due mongoloidi, a calci nel culo, sbattendo la testa nel muro, e si è fatto giurare su Dio che non sarebbe più successo una cosa del genere. Questo deve essere stato il chiarimento di cui parla Klopp. Queste sono scelte, su un 3-0, su una partita già vinta, con una prestazione ottima da parte di tutti, anche di Salah, che non ha fatto gol. Ha preso un pallo, comunque. Fare questi teatrini con Salah, che fa l'egoista, con Mané, che fa il mongoloide di turno, queste sono cose che non possono essere viste né sentite a questi livelli, specialmente per una squadra che quest'anno deve vincere tutta, o quantomeno arrivare in fondo a tutta. E già la quarta giornata senti e fai discorsi a testa di cazzo. Comunque, questo era forse l'evento della partita su cui c'era più da parlare, visto che poi la partita in sé non ha presentato nessun tipo di problematica. e nonostante questo, appunto, bisogna vederci questi teatrini del cazzo. Dai, ci vediamo al prossimo video, che non so, con Newcastle, forse bocceggia la pose nazionale di merda, ma non lo so, comunque, sempre Forza Libero. Ciao!